buongiorno oggi 30 giugno marte non concederà un attimo di tregua agli amici del leone della bilancia e del capricorno la passionalità arriverà a livelli storici smorzerà il fuoco della passione tra i nati del segno dell'acquario e dello scorpione la luna aiuterà i nati del cancro e del toro a passare una bella giornata con i propri cari giove agevolerà qualsiasi nuova idea dei nati nel segno dei pesci la dea vendata è dalla vostra parte lavora in segno contrario per quanto concerne la fortuna i nati del sagittario dovranno rimboccarsi le maniche più degli altri saturno agevola la volontà dei nati sotto il segno dei gemelli concedendo opportunità nuove e remunerative venere valorizza i sentimenti dei nati sotto il segno dell'ariete e della vergine amore e coccole all'ordine del giorno e ricorda la felicità e avere un filo a cui appendere le cose grazie per l'ascolto e a risentirci a domani questa cosa senza fine che ci sta portando via